Si prospetta un lungo weekend in casa PD. Il fine settimana che precede la direzione regionale di lunedì dovrà sciogliere qualche nodo perché il post primario è stato quasi più traumatico della campagna elettorale per la scelta del candidato governatore. La prima bomba è stata quella del presunto accordo con l'Udc apparentemente accantonato dopo il niet di Guerini. Nelle stesse ore la possibilità di una lista collegata ad Oliverio dove far confluire candidati non proprio graditi al partito nazionale ha dato un altro scossone. Dal Nazareno nonostante la sconfitta di Callipo rappresentante della rottamazione rinziana vorrebbero dare un bel colpo di spugna almeno nei nomi e nelle facce per la composizione delle liste. E poi c'è il codice etico e la posizione dei consiglieri uscenti che risultano indagati ma che a quanto pare sono stati i main sponsor di Oliverio alle primarie. In questo panorama è difficile che il lunedì si troverà la quadra per conoscere i nomi dei candidati ma almeno le linee guida per la stesura delle liste dovrebbero venire fuori. Il pericolo reale è che si finisca per perdere pezzi di elettorato dalla sinistra più radicale. Sul fronte opposto è il rapporto NCD Scopelliti di nodo da sciogliere. Alfano spinge per garantire linea comune al partito ovvero accordo con il PD anche in Calabria come a Roma ma anche a destra la discontinuità con il modello Scopelliti significerebbe sacrificare la candidatura degli uscenti tra cui Pino Gentile. La parte sua l'ex governatore lavora da lista Calabria Futura dove dovrebbero convergere ex consiglieri come Fausto Orso Marso e Nazareno Salerno che si sono autosuspesi da NCD. I 5 Stelle alle prese con la tre giorni romana intanto si asterranno dal voto per il rinnovo dei consigli provinciali nella nuova formula post-riforma del Rio. In Calabria è già abbozzato un progetto di campagna elettorale che dalla prossima settimana prevede incontri a tappeto su tutta la regione con grillo atteso per metà novembre.